Controlli straordinari su tutto il Bassanese per prevenire reati contro il patrimonio, in particolar modo furti in abitazione, a lavoro i carabinieri di Bassano che hanno controllato decine di persone sospette. Sia il centro della città che tutti gli altri comuni del territorio sono stati interessati dall'attività capillare degli uomini dell'arma. Impegnati un centinaio di militari e decine di mezzi grazie anche al rinforzo dei militari della compagnia di intervento operativo.